Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo canale. Io sono Camilla Marchetti, sono un medico veterinario, mi occupo principalmente di nutrizione, oncologia, medicina interna e cannabis medicinale. Mi vedrete spesso in compagnia dei miei animali, qui ci sono due dei miei cani, Aisha e De Bernati, detta Abby. Questo canale nasce con l'idea di dare qualche spunto riguardo alla nutrizione dei nostri animali, perché parliamo sempre più di cose giusto dar da mangiare al nostro cane o al nostro gatto, ma bisogna anche ricordare che è importantissima una visione sistemica anche in nutrizione, quindi considerare non solo il cibo ma anche il nucleo familiare, il comportamento o le problematiche comportamentali dell'animale. Tantissime cose possono influenzare la nostra scelta nella dieta. Quindi se avete piacere vi aspetto, seguiteci, a presto, ciao!